DRAGONBALL Z KAKAROT 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 Ich te escezionare il combo? Senti, a sto punto Vai, fai quello che ti pare Niente, non sono già il supporto Oh Vai, mochi che mi diverto In piena faccia, accidenti a te Vai, un'altra, un'altra, un'altra Non te la faccio passare Un'altra ancora per finirlo A posto, è andato E tutti i Cell Junior se ne possono andare a quel paese E saliamo di livello, vai Dov'è successo lì? All'altra, un'altra, 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 un'altra... Dov'è successo l'altra, un'altra, un'altra... Dov'è successo l'altra? Ah... Sì... 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 Un'altra, 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 un'altra... Un'altra, un'altra... Un'altra, un'altra... Un'altra, un'altra... Un'altra, 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 un'altra... Un'altra, un'altra, un'altra... Un'altra, 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 un'altra... . 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 Sì, è vero. A quanto pare... Ci tocca Beh, sì, ovviamente Però, io... Mo, non è per dire nulla, però I Cell Jr Facevano una fine ben peggiore E mia madre non si sarebbe neanche lamentata tanto Se questa fosse stata La fine che avrebbero fatto nell'anime A parte che poi comunque si hanno oscurato Anche nella versione giapponese Con un filtro blu se non sbaglio Quindi alla fine Pronto per l'installazione L'aggiornamento no Sella sei spacciato Mi do troppe aria No veramente l'aria la sto Espandendo dal mio corpo La sto respingendo grazie al ki Sella non capisce nulla Che poi tu non potresti avere Quest'aura visto che non hai Le cellule di Super Saiyan E' tutto qui Super Koki Masenko Super Masenko Che velocità Oh prima non mi ero accorto Mamma mia raga Quindi Arrenditi Ah ok Devo fermare l'attacco Fermato Bello Che figata Ah poi con Super Saiyan 2 Il mio personaggio preferito Di Dragon Ball Quindi ora proprio E' l'apoteosi per me Per me è l'apoteosi Questa qui raga Troppo bello Gone al 50 Uh come godo Che figata Che figata Sì, è tornato! Non è morto! Non è vero! Non è vero! Quindi tu... è già finito! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non... Non... Que... No, non è finito! A... Un minuto. Se non... La mia vita è libera! M ... l'euro è morto... Ma voi anche, le tue, tutti... ... l'euro è tutto. N ... L'euro è vero? Ma... Che cosa? I suoi lanciare? ... Mi ponte... Oh no. Come si vedi questo spettacolo al me, mi viene avvolto in un momento. Eheh, fa 30 minuti. C-c-c-so... C-c-com'è perché? Sperate! Perchè, senza dubbio! Certo, non... Non ci sia mai... Ah... Ci sono 10 minuti... Ahahahahahahahahahahahah Non mi sembrava che non mi sembrava... Non mi sembrava che il mondo non mi sembrava che il mondo non mi sembrava. G... Gokun? Tu... Ma... 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 Buongiorno Cosa I've never even had this DAD Buongiorno Scotiate Spontane Raiden Sankara But Uff. Uff. Vahim? What's it going to say? Sengo fatto. gloveito che sloppoli avordь. Posizi Fordi, Vahim? Eh, ma papà non mi toidores? G-G悟空 ha manzokそう na顔して死んでいった Omae no sei choro ga ure shicattan da Sa Mo kairo guan Ga Gos E' un'altra cosa che si tratta, è un'altra cosa che si tratta. E' un'altra cosa che io vivi, mi sembrava che mi sembrava. E' un'altra cosa che mi sembrava. C'è un'altra cosa che mi sembrava. E' un'altra cosa che non si tratta, questo corpo continua a continuare. Grazie a tutti. 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 Ottimo, tipo stordimento. Ok, botta al corpo, vai. Starei anche potenziando, se non ti dispiace. Eh sì, come... Doppia... Doppia... Vai, quando si stanca... No, colpisco... No, colpisco... No, colpisco... Eccolo... 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 Ragazzi, che fatica... Vai, 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 vai! Mamma mia, fatica a combattere Dragon Ball, eh? Premi due tasti Dalla fine sono sempre quelli i tasti Però, cavoli I pollici fanno allenamento, mamma mia T'ha andato pure lui E basta? E basta? Eh che cavolo Allora 51, vai Uno in più che gli fa Ah... Che giù che giù Ah! Ah... 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 O遊bio è già finito Grazie a tutti. 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 E finisce anche questa 2 gradi S, beh grazie grazie, modestamente. Questa credo sia la, secondo me, una delle più belle lotte di Dragon Ball, ma non la mia preferita, nonostante Gone Super Saiyan 2 sia il mio preferito. Direi che siamo giunti alla fine della saga di Dragon Ball, ma non la porterò la saga di Majin Buu la farò molto veloce, farò episodi di anche un'ora se serve. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una mano piantata nel terreno. VEGETA, questo qua è ancora rimasto a M.S.S.A.N.E. Eh, dov'è Cell? Eh Forse l'ha battuto lui, forse Non è sicuro I trucchi delle sfere luminose Che poi Mr. Satan in italiano doppiato da Lombardi è qualcosa di eccezionale Gli altri Cioè questo non si è accorto di niente Ma come trema Trema Sì, Satan, Satan, esci Satan, abbiamo capito Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.